Cari amiche e cari amici di Barbara Sofì, alcune riflessioni sull'intervento del Premier Giorgia Meloni al congresso della CGL. Cominciamo con il dire che questo è un chiaro, evidente, palese successo di Giorgia Meloni, un successo per Giorgia Meloni. Da tantissimi anni un Premier, un Presidente del Consiglio, non si presentava al congresso della CGL e lo ha fatto lei, Premier di un governo di destra, Premier appartenente a Fratelli d'Italia, il partito che deriva dall'Alleanza Nazionale, che sua volta deriva dal Movimento Sociale Italiano. Dunque, per la prima volta un esponente di massimo, di massimo grado di Fratelli d'Italia, nonché in questa addirittura Premier si presenta in maniera ufficiale al congresso e tiene chiaramente un discorso, un intervento. Dunque, la Meloni viene così riconosciuta ufficialmente come partner di dialogo, in quanto Premier, in quanto appunto rappresentante politico, dalla CGL, del sindacato, diciamo, della tradizione socialista, comunista italiana, poi chiaramente di acqua sotto i ponti ne è passata, ma il sindacato, potremmo dire, di quelli confederali è più a sinistra e ottiene un grande e importante riconoscimento. Tiene un discorso in cui non concede nulla di fatto al sindacato, non concede nulla per quanto riguarda il tema di fatto del salario, dei diritti del lavoro, non concede nulla sul salario minimo, non concede nulla sul tema della detassazione di fatto del lavoro, non concede nulla sul tema della lotta all'evasione fiscale, nulla sulla patrimoniale, ma ottiene di fatto però la cosa importante per lei, il riconoscimento per entrare pienamente dentro l'arco costituzionale. È già entrata chiaramente da decenni l'Alleanza Nazionale prima e Fratelli d'Italia dopo nell'arco costituzionale, o meglio, non hanno partecipato i loro antenati alla scrittura della Costituzione, ma ne sono andati a far parte governando il Paese, occupando cariche importanti, quali appunto il Presidente della Camera, del Senato, in questo caso addirittura ottenendo l'incarico di formare il governo e di guidarlo. Non è un caso che la Meloni abbia detto si compie così un passaggio di unità nazionale, l'unità nazionale che è tanto cara alla destra, però è così pienamente riconosciuta. Significativo che un leader come Landini, che era considerato un leader di sinistra dentro la CGL, sia stato poi lui a aprire la porta alla Meloni, a stendere i tappetini rossi o tappetoni o tappetacci rossi alla Meloni. Dunque senza ombra dubbio un successo di immagine per la Meloni, un successo politico della Meloni, che ha retto bene ai fischi, si è mostrata sicura, come quasi sempre Giorgia Meloni, che ha il suo stile sicuramente vincente, il suo portamento vincente, senza ovviamente concedere nulla ai suoi avversari, se non un richiamo agli evenimenti deprorevoli, dell'assalto alla CGL, ci mancherebbe che non li avesse condannati. Però capite, per una ragazza che ha militato nel fronte della gioventù, per una ragazza che ha avuto una giovinezza dentro le organizzazioni fasciste di questo paese, post fasciste, neofasciste, para, dite voi cosa volete, e se raccolta la CGL dentro il congresso è ovviamente un grandissimo successo, una statura, la CGL ha contribuito a far sì che la Meloni dunque acquisisse una statura e fosse riconosciuta. Da un punto di vista dei pensatori chiaramente liberali, le firme liberali di questo paese infatti sono contente che si vada verso l'unità nazionale che è sempre importante per portare avanti gli interessi del grande capitale, delle grandi aziende, delle grandi imprese che preferiscono di fatto che ci sono dei governi con pochissima opposizione, qualunque governo ci sia, l'importante è che non ci sia opposizione. Seconda riflessione, vabbè, la minoranza CGL ha scelto di protestare, una protesta che è stata, poiché viene trasformata in macchetta dai giornali, comunque l'hanno presa in giro, ma così i peluche, slogan la Ferragni, dunque la minoranza CGL forse ha protestato, ma come al solito la protesta si è trasformata in un boomerang, è stata chiaramente poi anche ridicolizzata e questo è secondo me un altro elemento su cui la sinistra, la CGL dovrebbe fare una riflessione perché chiaramente non è riuscita ad ottenere forse quel risultato che avrebbe voluto, cioè ripeto una premia, l'espressione di Fratelli d'Italia entra nella CGL e una minoranza soltanto la contesta, certo la maggioranza CGL anche solo per buona educazione, buon rispetto, poiché il segretario, la segretaria ha deciso di invitare la Meloni, ha seguito gli ordini della direzione centrale del sindacato, però veramente la protesta è stata rumorosa ma meno del previsto ed è stata comunque poi silenziata o comunque ricondotta a folklore dai media nazionali e questo era tra l'altro prevedibile. Ultimissima riflessione, l'invito della Premier da parte della CGL conferma che i sindacati italiani, il CGL e Cisleville sono sindacati concertativi, è la scelta che hanno fatto, concertano con i governi sempre le politiche, ottengono un pochissimo, sempre meno stanno ottenendo tal che il lavoro è umiliato, schiacciato, schiaffeggiato in questo paese, però la linea del sindacato confederale è sempre quella della concertazione, vuol dire che gli iscritti forse agli iscritti va bene così, vuol dire che ai militanti va bene così, sono anche sempre di meno poi gli iscritti e i militanti e i sindacati, ma non crescono neanche i sindacati autonomi, più conflittuali o meno, vuol dire che in Italia c'è un problema chiaramente di sindacalismo militante, cioè che faccia veramente poi delle vertenze e porti avanti delle battaglie, anche questo è un discorso che faccio in maniera molto oggettiva guardando altri paesi, in Germania i sindacati sono molto istituzionalizzati, ma ottengono anche discreti risultati, in Francia sono poco istituzionalizzati, così come in Spagna, ma quando c'è un ciclo di lotte i sindacati sono molto presenti dentro le lotte, accompagnano le lotte, si fanno accompagnare delle lotte, invece ancora una volta in Italia il sindacato va abbastanza con lo confederale a braccetto con il governo e dunque cerca sempre di concertare, trovare degli accordi e fatica a trovare invece una dimensione proprio dentro il mondo del lavoro, organizzare il lavoro, soprattutto fatica ad organizzare poi delle vertenze, continuo a dire che c'è un problema salariale gigantesco in questo paese, il sindacato fatica a portare avanti delle battaglie, il sindacato confederale dirà ma la colpa è dei lavoratori che non ci seguono, però è anche vero che il sindacato poche volte ha lanciato le grandi battaglie salariali, c'è un tema del precariato che il sindacato spesso non riesce a intercettare e c'è un altro tema importantissimo, proprio a mio avviso, quello delle morti sul lavoro, ma anche una grande battaglia contro le morti sul lavoro, capite che se sul salario e morte sul lavoro non si riescono a iniziare delle grandi battaglie, vuol dire che lo stato di salute ovviamente del sindacato confederale italiano non è buono, ma è anche vero che non crescono neanche altri sindacati. In questi giorni fa effetto vedere la battaglia dei francesi, uno può dire ma la Francia dal 1789, ma anche prima è una Francia che di rivoluzione ha fatto tantissime, oggi 18 marzo tra l'altro è l'anniversario del 18 marzo 1871 quando lavoratori, bottegai, militanti, anarchici, socialisti diedero vita a soldati, diedero vita alla comune di Parigi, un'esperienza poi finita in un bagno di sangue perché il potere si è riunito, il potere militare, il potere politico si è riunito nella repressione di questa esperienza rivoluzionaria con la dei comunardi, con addirittura i tedeschi di Bismarck che danno via libera per la repressione, cioè la Germania e la Francia erano in guerra ma poi Germania e Francia capiscono le istituzioni, il potere, l'esercito che bisogna dialogare per evitare che un virus si diffonda per l'Europa, il virus della rivoluzione, della rivoluzione dei lavoratori e del popolo parigino che potrebbe nuovamente contaminare tutta l'Europa e tutte le città europee, dunque in questa giornata di ricordo della comune vediamo come in Francia ci sia una battaglia molto molto dura contro Macron, un Macron che ha anche forzato la mano in Parlamento, poiché non aveva i numeri, ha deciso appunto di andare oltre, di bypassare il Parlamento ed imporre per imperio proprio la riforma pensionistica, tra l'altro in una Francia dove i salari sono più alti, il welfare state è migliore di quello italiano, l'assistenza sociale, medica, il salario minimo, nonostante i francesi sono in lotta, in Italia c'è questa ormai grande difficoltà, il sindacato italiano che è un grande patrimonio della nostra democrazia, il sindacato italiano che è molto in battaglia fatta, ci gesto un sindacato fondamentale nella storia del Novecento è comunque in difficoltà, ripeto a me fa effetto che il sindacato ha salito appunto da gruppi fascisti, il sindacato che è stato più preso da dinimira dall'avvento del fascismo 19, 20, 21, 22, sia poi il sindacato che mi ha aperto le porte alla premier Giorgia Meloni, la cui radici nella destra, la destra radicale italiana sono evidenti, lei con grande aplomb si è presentata, ha dimostrato di saperci fare e secondo me non c'è questa partita 1 a 0 per la Meloni, 2 a 0 per la Meloni nei confronti della CGL la cosa più attupando la relazione è difficile è